Mi presento, sono Giuseppe Ferrise. Durante questa residenza ho realizzato questa scultura, Sala Mabos. Ispirato dalla salamandra degli occhiali, che è uno dei rettili che è bazzica qui in Sila, ho voluto realizzare questa guardiana, a stare lì sull'albero a guardarci, a dare benvenuta ai visitatori del museo. Nell'ultima serie di lavori che ho fatto affronto questo tema della metamorfosi, che ricollego alla consapevolezza dell'essere adulto, quindi un uomo adulto che ha quasi dimenticato come ci si emoziona. E tramite il mio linguaggio cerco di offrire una prospettiva d'osservazione come quella che avrebbe un bambino, quindi ancora puro e capace di emozionarsi con le cose più semplici.